Grazie a tutti Per la tripla Riparte il Teramo Salamina Ancora Salamina Palleggio Arresto Tiro da S75 Piccinini 8 secondi per concludere l'azione Sempre Piccinini Palleggio con la mano sinistra Piccinini Bellissimo Tiro molto forzato Quello di Antonelli Recupera poi Musso Attenzione alla transizione Musso lo scarico Poi in angolo Per la tripla S75 Il capitano Salamina Ultimi 8 secondi Ancora Salamina Cambio di mano Contra Tonelli Numero di Salamina Palleggio Arresto Tiro Ottima davvero La difesa bianco-rossa Salamina Ancora Salamina Numero di Salamina Che poi appoggia Riparte il Bicelli Salamina Bravissimo Capisce tutto Recupera il pallone Ancora Salamina Milojevic Lo scarico sotto Per Musso In penetrazione 25-23 Attenzione la gioia Dall'arco Passaggio per Castelluccia Va contro la gioia Castelluccia Palleggio A mano sinistra Poi si va con la mano destra Bellissima difesa Il capitano Ancora la gioia Vedete il capitano Che Dovrebbe continuare Ancora Musso Contro Antonelli Attenzione a Musso Che quasi cade Poi Nolli Da tre punti Musso Va in penetrazione Scarico Splendido Per Milojevic Ultimi dieci secondi Ancora Musso Salamina Sette secondi Sempre Salamina Va in penetrazione Scarico Bellissimo Per la gioia Dall'Ese 75 Salamina in palleggio Passaggio per Stafieri Poi la gioia Spara subito la tripola All'arco Dall'Ese 75 Lo scarico per Musso Ball handling Da parte del giocatore argentino Scarico per Salamina La finta Va in penetrazione Salamina Numero Sbaglia Però la conclusione Tiene ancora vivo il possesso Ancora Salamina Stoppata di Antonelli Poi Milojevic Che recupera il rimbalzo Si appoggia Tabellone Palla per Milojevic La finta del giocatore serbo Si va poi da Musso Su di lui c'è Antonelli Poi Milojevic Si alza con il jump Da fuori Cinque secondi Dove forzare adesso l'argentino Ancora Musso Tre secondi La gioia si alza Lo scadere del 24 Staffieri Penetrazione di Staffo Che realizza Settimo punto di Diomede Meno 6 5-2 Teramo 4-6 Bisceglie Salamina sotto Per la gioia Che numero Per Milojevic Si alza dai 6-75 Milojevic Sbaglia Rimbalzo controllato da Pucci Attenzione Probabilmente non riuscirà A continuare Applausi comunque di tutto Il Palas Capriano 5-4 5-1 Teramo che adesso deve reagire assolutamente Salamina Passaggio per Herrera Che va aggressivo A realizzare E sì che realizza Meno 3 ancora Attenzione Musso Fa il numero manda per le terre Bedetti Poi Milojevic A spazio Il giocatore serbo Palleggio Arresto Tiro Bogdan La palla è per Musso Si va poi da Herrera Va in penetrazione Herrera Con la rovesciata Overtime Al Palas Capriano Tempi Supplementari Salamina Musso Ancora Musso Lo aspetta Antonelli La palla per Staffieri Si alza nel 675 Bang Valerio Staffieri Blocco di Antonelli La palla per Azzaro Stoppata di Staffieri Si resta ancora lì Questo Staffieri La recupera Può andare in transizione Un minuto e mezzo Al termine Del supplementare La palla per Musso I giocatori sono stremati Davvero Partita Di un livello Di una tensione Incredibile Pronto Nogli A rientrare Musso in palleggio Un minuto e diciotto Al termine 10 secondi Al termine Dell'azione Salamina Si alza All'arco Del 75 Bang Finisce qui Teramo Basket 1960 Vince Contro Biceglie 73 A 68 Al termine Di una partita Strepitosa E spettacolare Buon basket A tutti Alla prossima Alla prossima